Ciao a tutti e benvenuti in questo quarto episodio del podcast La Mia Dieta Appunti. Io sono Andrea ed io sono Mari, non Meri ma Mari. Oggi siamo veramente felici perché il gruppo ha superato le 2000 unità. Veramente siamo un pochino di più, cioè abbiamo superato e siamo in questo momento a 2018 membri. Comunque a parte tutto iniziamo con la nostra puntata e via con la sigla. Grazie a tutti. Ecco allora abbiamo detto che siamo arrivati a 2000 però diciamo che il tema di questo episodio sono le ferie. Vogliamo appunto raccontare un attimino qualche aneddoto delle nostre ferie e poi cercheremo di capire da te qual è il comportamento da tenere quando si è in ferie. Perché quando noi andiamo giù per esempio noi andiamo spesso appunto a trovare i miei suoceri in Calabria, anzi andiamo sempre a trovare i miei suoceri in Calabria e quando arriviamo giù incominciamo veramente a fare la festa, a mangiare come non so che cosa. E quindi questo diciamo che per quanto concerne il discorso della dieta è un pochettino deleterio. Però ecco bisogna anche diciamo sapersi comportare. Esatto. E quindi non so cioè tipo quando noi siamo giù raccontiamo qualche aneddoto dai adesso così buttato lì non so quando andiamo a fare le feste in campagna cosa cosa succede. Anche la suocera che mi dice sempre eh ma non hai mangiato niente, non hai fatto niente. Hai solo assaggiato, mangia tutto altrimenti si perde come si dice giù in Calabria. Tanto salutiamo tutti gli amici calabresi. Io sono di parto ovviamente essendo di origine appunto calabresi e pur vivendo qui in Germania da 25 anni ovviamente le mie radici rimangono quelle che sono e ne vado veramente fiera. Quindi salutiamo tutti gli amici del sud in particolare gli amici della Calabria e noi quando andiamo in Calabria per dire al mare andiamo a Davoli, Davoli Marina. Quindi se c'è qualcuno di voi che ci ascolta perché no ci faccia sapere perché veramente bellissimo è una zona bellissima è piaciuta tanto anche ad Andrea. Sì sì devo essere sincero. Si sta veramente bene però vabbè diciamo che vabbè ripeto magari sarò di parte ma è una verità che il mare del sud è veramente bello ovunque non solo in Calabria è bello in Sicilia è bello in Puglia è bello veramente ovunque. Vabbè al sud dai si sa che insomma il mare è meno inquinato sotto certi aspetti sotto tanti altri a quanto pare ci sono delle cose che adesso non andiamo qua a trattare nel nostro podcast però diciamo il tema è appunto quando si va in ferie no? Allora come dicevamo anche noi grandi grigliate di carne o comunque sempre grandi mangiate giorno sera mezzogiorno insomma c'è un continuo mangiare una continua abbuffarsi esatto un continuo abbuffarsi e sembra quasi che veramente fai io che poi vengo dal nord no? Poi alla fine mi sembra quando vengo giù è sempre come dire mi sento sempre quasi in dovere di dover mangiare ma anche perché effettivamente a me piace mangiare io amo il sud a me piacciono proprio i sapori gli odori del sud no? Quindi quando vengo giù anche dai 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 tuoi voglio dire è sempre è sempre bello no? È sempre come dire è sempre a parte che c'è sempre un clima di festa questo bisogna darne atto al sud dai. Sì sì c'è proprio questo calore che che non viene solo dalla famiglia ma viene veramente dalla gente in generale proprio che sono molto affettuosi cioè vanno quasi a gara ad invitarti a casa per mangiare domani viene mangiare da me no domani già invitata a casa mia e per farti tutte le prelibatezze che veramente per quanto mi riguardano nonostante che io appunto vengo dal sud Sarà il fatto che dopo tanti anni che vivo qua appena arrivo mi ingolfo così per dire perché veramente ci sono Sì ci ingossiamo proprio è vero dai E poi ti blocchi perché non sei abituata più a mangiare queste cose che sono buonissime genuine veramente ottime però sono un pochino pesantine e c'è anche da combattere ovviamente con la bilancia perché stai sempre con il dubbio non è che starò esagerando questo per quanto riguarda questo ovunque si va quando si è in ferie non è che devi andare per forza al sud No ma infatti voglio dire c'è la tendenza ad esagerare Esatto ma poi no quello che voglio dire in Italia adesso noi parliamo del sud perché andiamo giù al sud eccetera però è anche vero che quando si va al nord per esempio quando si andava a trovare la nonna o comunque i parenti che abbiamo che ho io a Ferrara anche lì non è che ti risparmi No assolutamente anzi ci sono in tutta Italia diciamo che la nostra cucina proprio in generale in Italia è buonissimo ovunque ogni regione ha le proprie specialità che non puoi veramente far a meno di non provare di non assaggiare Poi io vado matta per la mortadella per gli affettati in generale quindi c'è il nord c'è quale miglior mortadella se non quella di Bologna appunto dell'Emilia Romagna gli affettati in generale le piadine La piadina dai che buona Però ecco allora voglio fare voglio specificare una cosa cioè noi parliamo così perché noi abitiamo in Germania e qui tanti sapori tanti gusti che ci sono in Italia purtroppo qua un po' ce li sogniamo Quindi quando noi veniamo giù in Italia è naturale che ci Apprezziamo forse un po' di più di voi che invece vivete in Italia e che ovviamente faccio esempio la mortadella potete andare tutti i giorni a comprarla ed è buona ed è buona ovunque anche se ripeto cioè io ho visto la differenza poi magari era solamente una cosa una cosa mia però ho visto invece la differenza della mortadella di quando la mangiavo a casa della della nonna A Ferrara appunto e giù in Calabria quando la compravo sì era altrettanto buona però lì aveva un profumo particolare quindi diciamo che noi che abitiamo all'estero apprezziamo di più queste piccole cose poi che Non parliamo però adesso se andiamo a vedere è vero che la mortadella da noi è molto buona però se adesso uno ama i salumi diciamo in generale le soppressate vostre fatte in casa Che ne so cosa la pitta la pitta queste cose fantastiche La soppressata il pecorino stagionato Non so le melanzane ripiene come le fa la mia mamma come si usa farle al sud che si fanno col ripieno di carne oppure si fanno le melanzane ripiene con la melanzana stessa con la polpa della melanzana stessa è proprio una specialità del del sud E per chi a chi piacciono queste cose io ne vado veramente letteralmente pazza sono veramente non puoi non mangiarle veramente non puoi dire di no a queste cose Ecco scusa adesso stavo mentre tu parlavi stavo riflettendo no per chi non ci conosce per chi ci sta ascoltando adesso magari pensa che siamo un podcast dedicato alla cucina in generale Alla buffata Alla buffata Però adesso siamo nel periodo giusto invece per parlarne Invece noi siamo un podcast che vuole parlare di dieta infatti si chiama la mia dieta appunti Sarà che abbiamo fatto talmente tanta dieta in questi giorni che stiamo morendo di fame Per cui Morendo di fame no perché con questo metodo che noi seguiamo di fame sicuramente non si muore perché puoi permetterti tutto Però è ovvio che parlando appunto di vacanze volevamo un po' appunto tranquillizzare tutte come io tranquillizzo le mie ragazze Io le chiamo le mie perché ci sono affezionata sul gruppo appunto che dico state tranquille quando andate in ferie Sì è ovvio che dovete stare attente a non esagerare Però cioè godetevi la vacanza perché se stai anche in vacanza lì nel nostro caso a calcolare questi benedetti punti eccetera O chi segue le calorie Cioè allora non ti godi più la vacanza e stai anche lì quei 15 giorni Stai a stecchetto diciamo che non è vale la pena Allora tanto vale che te ne stai a casa Ecco sì e infatti io in parte risposto Alla domanda che ti volevo fare Allora visto e considerato appunto che adesso si va in ferie siamo nel periodo estivo e quindi tanti andranno al paese Andranno all'estero Comunque faranno le proprie ferie Certo Come comportarsi con la dieta quando si è in ferie? Ecco questa è una domanda che penso che tanti si stanno ponendo no? Specialmente anche le ragazze del nostro gruppo I ragazzi e le ragazze Come dobbiamo comportarci? Lo dico per esperienza perché ovviamente come abbiamo detto Cioè siamo delle persone come voi non siamo degli alieni Andiamo anche noi in ferie e mangiamo anche noi E anzi a volte magari ci si abbuffa pure Il discorso è che io penso che in automatico proprio ti viene naturale Che sì puoi pure abbuffarti magari i primi giorni Però poi è arrivato un certo punto E ti viene proprio naturale invece darti una calmata Puoi tranquillamente assaggiare un po' di tutto Di quello che c'è a tavola Che ti propone la mamma, la nonna, la suocera O quello che è O gli amici O se sei in albergo ti godi Quello che cucina il ristorante Dove tu alloggi Non c'è assolutamente alcun problema Per quanto mi riguarda per esempio Noi quando andiamo in ferie Siccome appunto andando al mare tutti i giorni Noi vabbè non siamo i tipi che ci mettiamo lì Ci stendiamo Ci prendiamo otto ore solo il sole e basta Sì si prende il sole e ti fai il bagno Ecco fare del movimento Però appunto noi per dire Io e Andrea giochiamo a racchettone sulla spiaggia Quindi ti diverti Sì vai a nuotare Vai a nuotare Poi vabbè abbiamo la piccolina noi Quindi dobbiamo andare sempre in acqua Dietro lei Dobbiamo uscire Dobbiamo fare tante cose Diciamo che secondo me in vacanza ti muovi di più Poi dipende da che tipo di vacanza fai Però in generale Diciamo per il fatto che mangi di più Quello sì No vabbè no Sto dicendo che se una persona va in vacanza Io lo do per scontato Che non è che stai appunto Dalla mattina alla sera solo stesa sul lettino A prendere il sole Presumo che chi va in vacanza Voglia anche vedere un qualcosa Quindi magari ci si organizza delle gite E quindi si cammina tanto a piedi Almeno per quanto riguarda la nostra esperienza E diciamo che quello che mangi lo smaltisci pure Non è che Quindi c'è il movimento fa Il mio consiglio è appunto Non privatevi di nulla Perché sarebbe una vacanza veramente tristissima Sì esatto esatto Piuttosto magari vedete di compensare Il mangiare un pochino di più Con un po' di movimento in più appunto Quindi già se si compensa questa cosa qua Che invece di starsi stravaccati E non fare nulla E mangiare Magari muoversi un pochino di più Però diciamo che specialmente quando si va al sud Alcune di voi magari possono anche confermare questa cosa Che si tende ad esagerare Proprio per una Per un'abitudine Una cultura C'è la mamma appunto Io penso questo un po' in tutta Italia Poi alla fine dai Però vabbè Forse magari Io parlo per la mia esperienza C'è la mamma che secondo lei Non hai mai mangiato abbastanza Devi assaggiare anche questo E questo mangia Altrimenti è peccato Come si dice al sud Mangia mangia E assaggia E quindi Comunque Io ho anche una cosa che notavo Che ho notato Vabbè in questi anni Che siamo scesi giù E il fatto anche secondo me Dei prezzi Perché dove viviamo noi Bisogna dire che siamo in una zona Come abbiamo detto Noi siamo sul lago di Costanza In Germania Una zona turistica Ma veramente cara Sì E quindi quando scendiamo giù Che si va a comprare Che si va tipo in panetteria Che si va in pasticceria O in qualunque posto Vediamo questi prezzi Veramente bassi per noi E quindi Cioè Ci viene veramente sempre da comprare Che ne so Tipo l'arancino Sì E il Come si chiamano Le pizzette E le cose Insomma un po' di tutto I pasticcini I pasticcini Esatto Per cui Questo è anche un po' Da un lato Ci frega Però appunto Poi c'è la passeggiata Quotidiana Come facciamo sempre Anche perché siamo in un paese Che siamo sulla montagna Per cui Voglio dire Sì ci sono dei percorsi Bellissimi Esatto ci sono dei percorsi bellissimi E questo fa sì Che Ci faccia In un certo senso Smaltire Tutto quello Che mangiamo Bene Adesso Parliamo Un pochettino Del nostro gruppo Ovviamente Anche per le ragazze Che ci seguono E quindi Iniziamo a dare Un attimino Qualche segnalazione Qualcosa Intanto Mi sembra che La nostra iniziativa In cucina Con la mia dieta Punti Stia funzionando bene Sì Siamo già La seconda settimana Ecco ma magari Per gli ascoltatori Spieghiamo un attimino In cosa consiste Magari Questa Questa iniziativa Questo evento Che stiamo facendo Ogni venerdì Sì due settimane fa Abbiamo cominciato Abbiamo proposto Appunto questa cosa Che Facciamo Come dice Andrea Ogni venerdì E non è altro Che in pratica Cucinare Tutto Tutte le Partecipanti Del gruppo E partecipanti Ci sono anche degli uomini Anche se non si fanno mai sentire Fatevi sentire Voi uomini Battete un colpo Battete un colpo Se ci siete Abbiamo pensato Di cucinare Un giorno Una settimana Tutti la stessa cosa E poi In pratica C'è Da Da far vedere Da postare Da postare Il piatto Già pronto Noi abbiamo fatto La prima settimana Abbiamo anche fatto Il mukbang In diretta Che non sarebbe altro Che in pratica Mangiare In diretta Riprese Dal video Per chi non lo sa Per chi non lo sa E abbiamo Le ricette Le fa La nostra Rosanna Meola Che fa delle ricette Veramente Ottime Buonissime La ringrazio anche qui Grazie Rosanna Perché veramente Veramente ottimo Ormai lo ringraziate Dappertutto Mancava il podcast Diciamo che sta andando Veramente molto bene Perché le partecipanti Sono sempre tante Non sempre hanno Tutte postato La propria foto Con la ricetta Pronta Però diciamo Che è stata Veramente Presa Nel modo Giusto Questa iniziativa È molto divertente Sta diventando Un appuntamento Fisso Come detto Niente Sì dai Diciamo che È veramente Una bella iniziativa E che questo Serve In un certo senso A coinvolgere Le persone Del gruppo Perché comunque Noi abbiamo Questa idea Appunto Di gruppo Di portare avanti Tanti progetti Tante iniziative Le prossime settimane Avremo delle Novità Anche questa settimana Devo dire Comunque Che vogliamo ringraziare Tutti gli ascoltatori Perché il podcast È stato Anche questa settimana Seguito Veramente Grazie Grazie È un qualcosa Che non ci aspettiamo Noi siamo consci Anche del fatto Che abbiamo già Una base Della nostra Comunità Come ho sempre detto Che ci ascolta Ma Oltre Diciamo Al primo giorno Che il picco Ovviamente Degli ascolti L'ha in cima Devo dire che poi Per tutta la settimana Gli ascolti proseguono Voglio ricordarvi Che siamo sulle Principali piattaforme Di podcasting Quindi Siamo su Google podcast Siamo su Apple podcast Siamo su Spotify E siamo su Spreaker Quindi potete seguirci Dove volete Volevamo inoltre Ricordarvi Che abbiamo Già settimana scorsa Ve l'avevamo detto Che abbiamo aperto Un numero di telefono Dove potete Eventualmente Scriverci su Whatsapp Telegram O mandarci Un sms E il numero E il numero è Più 49 Perché come sapete Noi abitiamo in Germania Quindi Più 49 157 8 03 04 377 Vorrei inoltre Fare una segnalazione Per tutti gli appassionati Di podcast Il 12 ottobre Ci sarà a Milano Il festival Del podcasting Dove potrete Incontrare Tutti i maggiori Podcaster italiani Ovviamente Io e Mari Non siamo famosi E quindi Saremo lì Anche noi A curiosare un attimino Perché ci piace molto Se fai podcasting O ami il podcast Che stai ascoltando Ti invito al Festival del podcasting 2019 Il 12 ottobre A Milano Una giornata di incontro Tra podcaster Indipendenti Editori Piattaforme E appassionati Di podcasting Biglietti e informazioni Su Festival del podcasting Punto it Anche oggi Siamo arrivati Alla conclusione Di questo episodio Mi sembra che abbiamo Detto un po' tutto Sì Insomma Oggi è stato un episodio Un po' diverso Dal solito No Perché abbiamo parlato Un po' più leggero Perché se no Se parliamo sempre Di dieta Anche in questo periodo Che magari qualcuno Non vuole stare A dieta Giustamente Sarebbe un pochino Pesante Quindi Sì vabbè Anche se non è vero Questo Che chi segue la dieta E tra le nostre ragazze Sono veramente brave Sono veramente brave Perché continuano a seguire Qualche 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 Messaggio Whatsapp O lasciate Qualche commento Siamo sempre A vostra disposizione Anche durante Le ferme Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.